Prima di tutto vorrei presentarti, noi ci conosciamo da tanti anni, sei una mia carissima amica e hai un curriculum veramente eccezionale perché sei specializzata in reumatologia, hai un dottorato, hai studiato ad Harvard e poi non ti bastava, hai preso anche un master in terapia del dolore. Anche questo aspetto a noi interessa molto perché parliamo di una malattia, l'endometriosi, che come sintomo principale ha proprio il dolore. Certo, bene, mi fa piacere che l'intervento di oggi sia particolarmente apprezzato da tutti i numerosi follower che hai. Io, insomma, sono pronta a rispondere ad ogni domanda relativamente all'argomento che andremo a trattare. Bene, intanto faccio una brevissima introduzione su cos'è l'endometriosi. Se per caso qualcuno trova così questo video ed è il primo che guarda, chi mi segue da tempo già conosce questa patologia, ne ho parlato in diverse occasioni. L'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dalla presenza di un tessuto simile all'endometrio in una sede anomala che crea una situazione infiammatoria cronica appunto sistemica per cui non è solo una patologia dell'utero e degli organi pelvici ma crea dei problemi per tutto l'organismo. Coesiste a una disregolazione del sistema immunitario per cui è caratteristico che coesistano delle patologie legate al sistema immunitario e altre patologie dolorose come per esempio anche il colon irritabile ma soprattutto oggi ci interessa parlare della fibromialgia. L'endometriosi con la fibromialgia e con la vulvodinia fa parte delle patologie cosiddette invisibili cioè quelle malattie che non danno dei segni clinici oggettivi ma che si manifestano con dei sintomi soggettivi come il dolore che non è misurabile per cui è molto importante che il medico ascolti la paziente e capisca che questo dolore è reale perché purtroppo queste pazienti spesso vengono bollate come malate psicosomatiche ma andate a fare una psicoterapia quando poi un problema è molto complesso magari poi uno può aver bisogno di un sostegno psicologico ma soprattutto perché sono patologie che vengono diagnosticate dopo anni e anni di attesa e questo è inaccettabile. Per fortuna negli ultimi anni se ne sta parlando sempre di più, si stanno muovendo molto anche le associazioni di pazienti ma anche nel mondo medico si comincia un pochettino a parlare di endometriosi, di fibromialgia, di vulvodinia purtroppo ancora se ne parla molto poco per cui questa proposta di legge che è stata depositata alla Camera dal Comitato per la Vulvodinia e la Neuropatia del Pudendo è molto importante perché ci possa essere una spinta politica verso quello che può essere appunto anche e soprattutto l'aggiornamento dei medici il fatto di creare eventi su questo tema e che i medici sappiano riconoscere queste patologie anche perché si basa il riconoscimento soprattutto sull'ascolto della paziente. Ma tornando appunto alla fibromialgia, appunto questa è una condizione di cui noi medici ne sappiamo veramente poco per cui ti lascerò parlare proprio liberamente di questa malattia e appunto vorrei capire quali sono i sintomi, come si fa la diagnosi e se è vero che è una malattia quasi esclusivamente femminile, cioè esiste il maschio affetto da fibromialgia e quindi insomma ti lascio la parola. Ok, grazie. Allora, presenterò in breve la fibromialgia che è una patologia che si presenta innanzitutto con un dolore di tipo cronico quindi anche diciamo il tempo con cui il paziente si presenta in ambulatorio è importante datare l'inizio dell'esordio del sintomo dolore. Il paziente viene a fare una visita per un dolore muscolare cronico quindi della durata maggiore di tre mesi, prevalentemente sono dolori di tipo diffuso, spesso a carattere migrante, presenti durante tutto l'arco della giornata, tant'è che molto spesso il paziente addirittura la mattina si sveglia stanco quindi non ha mai un sonno che riesce a riportarlo in una condizione di riduzione di questo dolore cronico quindi lamenterà dolore durante tutta la giornata. Il fatto di svegliarsi molto spesso stanchi è un'altra caratteristica della patologia proprio perché uno dei segni, dei sintomi che il paziente ci riferisce è il disturbo del sonno, prevalentemente un disturbo della fase profonda del sonno, della terza e quarta fase per cui il paziente non riuscirà mai a riposare bene e la caratteristica di questo sonno è che è un sonno che non risponde proprio per questo all'utilizzo anche delle benzodiazepine che sono i primi farmaci che vengono presi per i disturbi del sonno. Quindi il paziente fibromialgico è un paziente che nonostante il trattamento mirato avrà proprio una difficoltà a recuperare le forze durante il sonno. L'altra caratteristica è la difficoltà di concentrazione durante lo svolgimento delle comuni attività quotidiane, il deficit di attenzione che si può avere durante l'attività lavorativa per cui sono spesso soggetti che riescono ad essere meno produttivi, vengono identificati quasi come gli scansa fatiche e poi in realtà non riescono ad avere la stessa performance di persone che non soffrono di questa patologia, non perché ci sia un deficit di tipo cognitivo, però per esempio facendo svolgere dei test di tipo cognitivo a questi pazienti si è visto che nonostante rientrassero nella normalità non riuscivano sempre a raggiungere dei risultati inferiori rispetto alla popolazione generale. Per cui sono tanti aspetti che caratterizzano questa patologia, una patologia difficile anche da diagnosticare proprio perché non ci sono dei marcatori di malattia, cioè non posso arrivare alla diagnosi attraverso l'esecuzione di un esame specifico perché non ci sono biomarker a livello di esami amatici, non ci sono esami strumentali particolari che riescono a farmi fare diagnosi di malattia. Ultimamente si è dato più importanza alla biopsia dell'acute di pazienti fibromialgici perché è stato visto che pazienti con questa patologia presentano un'alterazione proprio delle piccole fibre nelle biopsie del derma. Quindi se prima si pensava alla fibromialgia come una patologia del sistema nervoso centrale in cui erano deficitari i meccanismi di controllo inibitori del dolore, in realtà oggi sembra esserci anche un'importante componente periferica che contribuisce allo sviluppo di questo dolore cronico. Ecco, quindi una diagnosi, se ho capito bene, che si fa per esclusione, cioè una volta fatti accertamenti che escludono altri tipi di patologie, se proprio non troviamo niente quindi può essere anche quello, ho capito bene? Sì, e soprattutto un'anamnesi molto accurata del paziente indagando la sintomatologia e i vari aspetti della malattia che si presentano e a livello di esamo obiettivo la fibromialgia si caratterizza per la positività di questi tender point che sono diffusi in tutto il corpo, sono dei punti specifici sui quali andando ad esercitare una digitopressione lieve che su un paziente sano non evocherebbe alcuna risposta, in questi pazienti evoca una risposta esagerata al dolore. Ecco, ci sono anche dei casi in cui il dolore è localizzato, per esempio un dolore solo addominale, se non ci sono dolore agli arti, si può parlare di fibromialgia oppure solitamente no? No, devono essere soddisfatti la positività di almeno 12 su 18 tender points, quindi se questo criterio non è soddisfatto bisogna comunque ricercare altre cause di dolore cronico, perché comunque non esiste ahimè solo la fibromialgia. Certo, e come si fa la terapia? Una volta che venga fatta una diagnosi di fibromialgia, che percorso intraprende il paziente o la paziente? Allora, innanzitutto le linee guida internazionali attualmente hanno evidenziato da analisi di letteratura scientifica, quindi sulla base di studi randomizzati, un'ottima risposta attraverso l'utilizzo di attività fisica come tecniche di ginnastica dolce, idrochinesi, terapia e anche un percorso integrato di tecniche di rilassamento e percorsi di mindfulness che si sono rivelati particolarmente efficaci nel controllo del dolore. Chiaramente qualche volta non basta tutto questo percorso, ma il paziente ha bisogno anche di un approccio terapeutico più farmacologico. Diciamo che in una popolazione più giovane di età preferisco limitare inizialmente l'utilizzo di farmaci, nel vero senso della parola, prediligendo l'utilizzo di integratori. Mi riferisco in particolar modo alla PEA che ha un ottimo effetto neurotrofico, ma anche di modulazione dell'infiammazione, mi riferisco all'acido alfalipoico che ha dato comunque buoni risultati, magari associato all'utilizzo di miorilassanti, perché comunque anche questi c'è una buona evidenza in letteratura scientifica che sono farmaci che si possono utilizzare anche proprio come farmaci di primo livello nel trattamento della fibromialgia. Chiaramente su patologie un pochino più avanzate, l'utilizzo degli inibitori della ricaptazione della serotonina si è rivelato particolarmente efficace, in particolar modo la duloxetina e la venlafaxina perché hanno proprio un effetto di modulazione sui sistemi inibitori del dolore. Quindi si utilizzano a dosi dimezzate rispetto al trattamento della sindrome depressiva perché molto spesso bastano dosaggi inferiori per ottenere un controllo soddisfacente del dolore. Bene, bene. Ci sono anche altre malattie reumatologiche che coesistono alle endometriosi? Ti capita di vedere donne con endometriosi che hanno anche una malattia reumatologica e se sì, quali malattie? Allora sì, mi capita abbastanza spesso perché tant'è che si pensava prima che l'endometriosi fosse una malattia autoimmune vera e propria, proprio perché pazienti con l'endometriosi avevano, hanno positività qualche volta di autoanticorpi, in particolar modo gli anticorpi antinucleo e alcune pazienti anche anticorpi del lupus eritematoso sistemico e soprattutto gli anticorpi anticardiolipine, antifosfolipidi e la positività dell'AC. Questo, diciamo, soprattutto queste pazienti mi arrivano in ambulatorio, mandate in consulenza da ginecologi perché sono pazienti che hanno difficoltà a portare avanti le gravidanze proprio per la presenza di questi autoanticorpi. Quindi sono pazienti con endometriosi che oltre alla difficoltà meccanica di annidamento dell'embrione che si può avere in queste pazienti, quando una gravidanza, diciamo, inizia hanno difficoltà a portarla a termine per la presenza di questi autoanticorpi. Quindi è particolarmente importante riconoscere la presenza di uno stato trombofilico perché poi quello che succede è questo per instaurare una terapia con eparine a basso peso molecolare che ci può permettere di portare avanti una gravidanza invece con successo. Sì, benissimo. Poi tra l'altro la presenza di questi anticorpi antifosfolipidi a noi ci ostacola anche nella scelta della terapia dell'endometriosi, nella terapia ormonale perché spesso appunto può essere scelto una terapia di solo progestinico che non ha controindicazioni in questo senso, ma se vogliamo utilizzare una pillola estroprogestinica perché ha meno effetti collaterali, perché abbassa meno il livello di estrogeni, chi ha questa caratteristica, quindi questo tipo di anticorpi, non la può utilizzare perché è una controindicazione assoluta. Passiamo a parlare di terapia del dolore. Quali farmaci possiamo usare per una dismenorrea cosiddetta essenziale, cioè un dolore mestruale lieve che non comporta problemi particolari per la vita quotidiana e quali invece per l'endometriosi come supporto per gestire appunto questa patologia che inizia con un dolore ciclico, quindi un dolore legato alla mestruazione, ma per la mancata diagnosi progredisce e quindi diventa dolore ai rapporti, dolore alla defecazione, alla minzione, dolore pelvico cronico e la difficoltà è quella che i comuni antidolorifici a queste persone non funzionano più e quindi ti sfruttiamo per la sua competenza, che cosa possiamo dare a queste persone per stare meglio? Ok, su una banale dismenorrea può avere effetto anche l'utilizzo del paracetamolo di FANZ e COX2 che si possono utilizzare al bisogno. Facci qualche nome di molecola e non necessariamente di nome commerciale, quindi FANZ, il classico e l'ibuprofene, altri che si possono utilizzare? Ma ultimamente anche i COX2 inibitori, quindi il Celebrex e l'etoricoxib per esempio, sono associati anche a un minore sanguinamento, quindi di solito chi ha una dismenorrea, magari anche un ciclo particolarmente abbondante, l'utilizzo di questi antinfiammatori salettini ci permette invece anche di controllare un po' il discorso dell'abbondanza del flusso. Il paracetamolo è l'antidolorifico utilizzato per eccellenza al bisogno, questo non ha effetti collaterali particolari per cui si può utilizzare anche nelle fasce più giovani di età, anche nella dismenorrea dell'adolescente, ecco così come l'ibuprofene a basso dosale. Diverso è l'approccio per un dolore cronico, perché lì ci dobbiamo ritrovare a trattare un dolore che non è un dolore episodico, quindi non posso trattare tutti i giorni una paziente con antinfiammatori, chiaramente per tutti gli effetti collaterali che poi un trattamento di questo tipo può portare. Dolore pelvico hanno dato buoni risultati, alcuni integratori, mi riferisco in particolar modo all'uso della bromelina perché ha un effetto antiademigeno e anche antinfiammatorio, ancora l'utilizzo della PEA e l'utilizzo ad esempio della pentosifillina perché ha un effetto anche di immunomodulazione, quindi questi sono gli integratori che si utilizzano di più nel trattamento del dolore pelvico, trattamenti perito all'utilizzo di integratori, poi chiaramente anche lì si apre tutto il mondo dell'analgesia, quindi l'utilizzo degli antinfiammatori selettivi come COX-2 può essere consentito un po' più a lungo dei FANS proprio perché hanno meno effetti collaterali sul sanguinamento, sono associati anche a un minor rischio di emorragie digestive, quindi si gestiscono molto meglio da questo punto di vista. Purtroppo ci sono delle sindrome dolorose croniche che hanno necessità invece di un trattamento un po' più complesso e quindi si arrivano anche a utilizzare gli opioidi per esempio nel trattamento del dolore, del dolore pelvico severo. Sull'utilizzo degli opioidi bisogna avere un po' di cautela sulla loro titolazione anche, quindi vanno titolati piano piano e sul non rendere dipendente un soggetto trattato perché i rischi maggiori connessi all'utilizzo degli opioidi sono in particolar modo la tolleranza, quindi la necessità di incrementare un po' i dosaggi di opioidi per ottenere lo stesso dipendenza che invece comporta una sindrome d'astinenza vera e propria. Ti volevo chiedere, ci sono anche da noi centri di terapia del dolore, sono rivolti soprattutto all'oncologia, appunto alle malattie croniche, tra cui entra anche l'endometriosi, ma chi è l'algologo e da quali specializzazioni proviene? A partire dallo specialista in anestesia, allo specialista in oncologia, a tutti gli specialisti in malattie dell'apparato muscolo scheletrico, quindi dal reumatologo al fisiatra, ma anche a medici internisti, geriatri, alla terapia del dolore e anche alcuni medici di medicina generale che intraprendono il percorso di studi della terapia del dolore, proprio perché anche nei loro ambulatori il sintomo dolore rappresenta una delle cause maggiori di visite dal medico curante. Si va dal medico curante perché ha un dolore da riferire, è uno dei motivi per cui il paziente va più spesso dal medico curante, quindi si sono molto sensibilizzati anche i medici curanti al discorso della terapia del dolore. I centri di terapia del dolore sono gestiti prevalentemente da anestesisti, da oncologi e da palliativisti per quanto riguarda poi la terapia del dolore solo in ambito oncologico, ecco. Bene, bene, questa è un'ottima cosa soprattutto per quello che riguarda i medici di base perché spesso sono anche i primi che appunto prendono in carico la paziente, la persona con un dolore cronico, quindi è molto importante che siano formati sul dolore e su queste patologie cosiddette invisibili, quindi che sappiano perlomeno cos'è l'endometriosi e cos'è la fibromialgia. Sapessero anche cos'è la vulvodinia, sarebbe molto bello, ma prima dobbiamo aggiornarci noi ginecologi, ecco perché anatomicamente la zona riguarda noi e quindi noi siamo i primi che dobbiamo saperla diagnosticare, poi se anche i medici di base sapessero cosa è la vulvodinia, insomma sarebbe una bella cosa, però basterebbe, tra virgolette, che lo sapessero ginecologi. L'ultima mia domanda, perché secondo te c'è ancora molto tabù culturale sulla prescrizione degli opioidi e sulla cannabis terapeutica, che poi sarà l'oggetto di una successiva diretta che faremo dopo l'estate. Diciamo perché c'è poca informazione al riguardo, nonostante la cannabis sia utilizzata a scopo terapeutico in terapia del dolore da 10 anni esatti, dal 2012, però c'è poca informazione al riguardo anche e soprattutto da personale medico specializzato a personale medico, quindi molto spesso tanti specialisti non sanno neanche a chi indirizzare il paziente per intraprendere un percorso di questo tipo. In realtà la regione toscana prevede rimborsabilità per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico per svariate patologie, quindi per tutto il dolore neuropatico per il dolore oncologico nel trattamento della spasticità secondaria, quindi c'è la possibilità di accedere gratuitamente a un percorso terapeutico di questo tipo avendo determinate patologie, quindi tutti i centri prescrittori di terapia del dolore possono stilare un piano terapeutico con cui il paziente poi può continuare il proprio trattamento anche con la prescrizione del medico curante sulla base di un piano terapeutico fatto da un centro di riferimento. A me, in vista del dolore privato, capita di fare prescrizioni su ricetta bianca, quindi per pazienti che non richiedono la rimborsabilità della terapia chiaramente comunque è un nostro dovere informare il paziente che esistono dei centri di riferimento in cui il farmaco può essere rimborsato. Bene, ottimo. La domanda che ci faceva una persona prima, la fibromialgia può essere transitoria? Uno lo potrebbe avere per sei mesi, un anno e poi magari no, oppure magari non era quello, era un qualcos'altro? Allora, si può migliorare come sintomatologia, io ho pazienti che seguono un trattamento e che poi, diciamo, si abituano anche a degli stili di vita più sani e che riescono comunque ad ottenere un ottimo controllo del dolore, quindi pazienti che cominciano a fare attività fisica mirata, anche a curare un'alimentazione, diciamo, seguendo una dieta a basso indice glicemico perché l'utilizzo, cioè il mangiare troppi zuccheri semplici è un fattore proinfiammatorio, quindi ci sono anche dei nutrizionisti che si occupano proprio di questo aspetto e la nutrizione non è da sottovalutare nel trattamento di questa patologia. Quindi, diciamo, lo stile di vita della paziente può influire tanto nel controllo della sintomatologia dolorosa. Certamente sono patologie croniche, purtroppo i pazienti arrivano in ambulatorio quando questi sintomi persistono per tanto tempo, le abitudini di vita della paziente sono difficili da cambiare o ci sono anche delle pazienti con difficoltà a tornare un po' indietro su certi stili di vita intrapresi, quindi bisogna vedere anche la compliance del paziente, la disponibilità a seguire un certo percorso che non è semplicemente farmacologico, cioè prendo il farmaco e sto meglio. È molto molto più complesso il trattamento della fibromialgia, però ecco ho pazienti che si sono sganciate anche dalla terapia farmacologica, quindi l'importante è... Si può stare meglio, ecco, possiamo mandare un messaggio di speranza. Quindi, come in tutte queste tipo di patologie, anche una diagnosi precoce potrebbe aiutare, giusto, il fatto di poter fare una diagnosi prima di arrivare a una pronunicità di anni, quindi questo è importante, me lo confermi. Assolutamente sì, io vedo una domanda di un partecipante che mi dice, può rispondere alla psicoterapia? Allora, sicuramente in quelle forme di fibromialgia associate a una sindrome ansiosa depressiva, perché no? Un percorso psicoterapico è assolutamente indicato, ancora più indicate sono poi le tecniche di rilassamento e i percorsi di mindfulness che molti psicologi fanno e che sono proprio mirati al controllo del dolore, quindi assolutamente sì. E poi mi viene da dire anche, sempre tra le medicine integrative, anche l'agopuntura per rispetto di aumentare le endorfine, di rilassare, insomma confermi che anche questo può far parte del percorso. Non tutte le pazienti fibromialgiche in una fase acuta gradiscono l'utilizzo dell'ago sulla pelle, ecco questo mi è capitato che però diciamo quando la patologia è in discreto controllo, l'agopuntura assolutamente può diciamo permetterci anche di ridurre la terapia farmacologica, quindi assolutamente sì. Bene, ottimo. Io ti ringrazio veramente tanto per questa chiacchierata, se qualcuno poi ha altre domande mi può scrivere in DM e poi le passo a Irene e quindi insomma grazie veramente tante, buon pomeriggio, grazie Irene e grazie a coloro che ci hanno ascoltato oggi pomeriggio e che poi ci seguiranno, ci sentiranno successivamente perché il video rimane registrato. Bene, grazie Valentina e buona giornata a tutti.